di gioia come come conostrazione il precedente è almeno di San Jovele la parte del gioco è stato una campagna di Giorgio di Lò la faccia di la storia di Stato e l'opera non hanno tenuto il gioco di tutto questo sono lieto ovviamente per un atto di ausilio che faccia il presidente del punto di segretario ha fatto bene, era un terreno in corsa, affermato sarebbe stato un autore clamoroso per gli interessi dei cittadini. Mi sono contenti di questo. Giungo che il mio partito, Forza Italia, qui raggiunge livelli davvero altissimi perché sembra la proiezione al 25%, perché abbiamo superato abbondantemente il 14%, e quando ho sentito Antonio Cagliani mi ha detto e io credo che davvero sia così, siamo lieti perché abbiamo un gruppo di donne e di uomini che ringrazio tutti, tutto il partito, ringrazio in modo particolare 29 candidati 29 candidate che si sono date da fare davvero in modo straordinario e sono convinto che non escludo che quel dato possa persino a migliorare un po'